musica 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 bene ragazzi siamo qui sul secondo episodio eeeh novità guardate qui ho risolato un salvataggio della tech kit eeeh niente continuiamo qui perchè l'ho fatto perfetto un ragno che cazzo è stefan qua e ecco qua e tu da dove è uscito va bene eeeh eeeh andiamo vi faccio vedere perchè ho scelto questo posto non so quanto tempo fa che guarda vulcano ed è spettacolare andiamo andiamo gomma 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 cava enorme ci vediamo appena sono arrivato la rava riaccomi allora stavamo dicendo eeeh al ferro fatto eeeh boh ah li ha due ore ma ah li guarda qua già finito tutto buh dammi l'oro dammi il copper eeeh questo non so che sei allora mettiamo questo 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 e questo e questo poi aspetta il marmo te lo lo mette qua il marmo qua vedete si cobro lo stack di così così di terra meraviglia tipo aspetta l'area questo posto infatti facciamo che qua ci mettiamo questa la metterò l'antirizzazione l'antirizzazione l'interessazione l'imposti roba da mangiare eeeh una roba tipo così e qua ci mettiamo la lampo questo coso qua questo 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 e sampling quindi il cardone lo mettiamo qua eeeh da mangiare lo mettiamo qua ma quello cotto lo mettiamo qua eeeh eeeh capo eeeh aspettiamo che finisca qua eeeh iniziamo a fare qualcosa dai e eccomi ragazzi sono qui allora facciamoci i pensi di rubino allora il vorreggio io compito che non spara eeeh non ci diciamo ma eeeh eeeh ogni anche connects a Allora che facciamo? Intanto dormiamo. Fm, dormiamo. Ok, che iniziamo? Vediamo un po' cosa fare oggi. Iniziamo con il tipo come si è generato il cazzivare. Iniziamo. Allora, 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 allora. Allora... Oh, guardate sta il generator. Guardate , ci saranno져 vengare il cazzo. Lo rusare... lo rusare, lo Vorte. Eccoli qua. GENERATOR Reggieri nero, re batteri, devo usarli. Sì. Il t-Reds. Oddio, non mi voy, ma così. la gomma ce l'abbiamo la gomma non ce l'abbiamo mi sa ragazzi allora intanto facciamo vedere la gomma andiamo in giro per vedere così 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 qui è quello della gomma e ok che è quello che è il giro che è quello che è che è quello che è quello che è mi sembra che ci vede questa gomma e tu da dove sei uscito morite stronzi allora ci vediamo la gomma dai 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 è che è vuoto ma no c'è appena ricapito questo cazzo di cosa è un po' di bomba è un cazzo è un po' che è morto ma ok il mio coltso che l'ambi di libri un'altra bomba testa 214 ragazzi ci vediamo ma sono arrivati là daiè daiè siamo arrivati oddio ho letto casa invece dai no 30 settembre stavo letto bene lalalalalalalala lalalalalalala lalalalalal ardi balli daiè la per p la 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 Oh, donno, donno, donno Donno, donno, donno Oh, eh, eh, quanti Donno, che impatto Cazzo Lioni, fermati eri io come li voglio fermati bello via weepon remove ok e andiamo a casa no so io come prendere la bomba oh oh yeah santuribili lo andas tocca stop acqua devo fare più luce ok e che palla si stronti allora diciamo quanti sappiamo ciò facciamo qua 1,2,3,4 1,2,3,4 3,4,4 se posso valibili 1, ma che aspettavo perché ci devo così ragazzi un po' e no vediamo se che ci hanno saputo 3 blu blu non c'entra più vabbè ci diamo tra poco allora ho fatto altri 7 sapling non dicevamo 1,2,3,4,5 1,2,3,4,4 stop off tirano il buracque e vai allora cresci cresci guarda l'avanti vabbè ragazzi l'episodio sarà uscito non so quanto lungo ci vediamo un po' sì vabbè ragazzi e Grazie a tutti